Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Stavo nel teatro dei bulatini. E perché? Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andato nel teatro dei bulatini. E sei entrato senza pagare? Sì. Non ho fatto entrare così. Che sta succedendo? No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi. Poi ce l'ho mangi a fuoco. E mi ha dato cinque zecchi di doro. Poi? E poi li ho persi. E hai incontrato i due assassini nel bosco. E dimmi. Non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo? No. Io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso? No, no, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti. fermalo, fermalo, fermalo. No, ci rompe tutto. Attenzione, non mi fate male. Mi fate male. Fermalo, per favore, rompe tutto. E' la mia. No, 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 no. No, no, no.